La vetrina mondiale dei vini toscani si sta per aprire a Firenze con Buy Wine il 7 e 8 febbraio e anteprime di Toscana dal 15 febbraio alla Fortezza da Basso. L'edizione 2020 dei due eventi che vedono protagonista il vino toscano è stata presentata dall'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. Saranno 260 produttori toscani presenti a Buy Wine selezionati grazie ad un bando regionale e circa 240 buyer providenti da oltre 50 paesi. Mancherà però la Cina per l'emergenza coronavirus. I buyer gireranno la Toscana in lungo e largo, visiteranno le cantine, visiteranno i vigneti, degusteranno tutti i vini che sono stati messi sul mercato e quindi c'è l'opportunità chiaramente di cogliere tutte le positività di questo settore. Vorrei ricordare che il 2019 per la Toscana ha voluto dire più 11% sotto l'aspetto di produzione. Ad anteprime di Toscana 2020 darà il via prima anteprima dove i consorsi di tutela aderenti presenteranno le nuove annate. Assoluta novità di quest'anno la rassegna cinematografica Chuck & Wine al cinema della compagnia. È un programma densissimo, saranno proiezioni accompagnate da degustazioni, piccoli speech che faranno dalla compagnia un palcoscenico come se si fosse in una cantina multimediale. Ecco, dalla cantina al palcoscenico, vino e cinema. È una delle caratteristiche di Buy Wine. La presentazione di Buy Wine, anteprime di Toscana, è stata l'occasione per premiare gli eroi toscani del vino. Carlotta Salvini, miglior sommelier d'Italia, Fisar 2019 e Barbara Tamburini, miglior enologo 2019. Premiate anche le aziende toscane vincitrici al concorso mondiale di Bruxelles 2019.